Sono molto contento di lavorare per la mia città, sono sempre stato molto contento di questo e non mi sono mai voluto allontanare da Arezzo. E' Aldo Poponcini il nuovo comandante della Polizia Municipale di Arezzo che va così a sostituire Cino Augusto Cecchini in pensione dal 1 maggio. Poponcini, già operativo nella sua nuova e importante funzione, sino ad oggi aveva ricoperto il ruolo di vicecomandante. Io chiedo solamente a tutta la Polizia Municipale di Arezzo di continuare quello che è stato iniziato dal comandante Cecchini, quindi continuare nel presidio del territorio per dare con la nostra presenza sicurezza a tutti i cittadini. Può contare anche su un'importante squadra alle sociali? Sì, è una squadra che finora si è impegnato molto, non siamo numerosi, siamo come unità di servizio in 86, compreso tutti gli ufficiali, quindi il numero adeguato ci vorrebbero circa una trentina di unità in più. Come forse arriveranno a breve però? Sì, si sta ultimando l'ultima prova di un concorso in cui verranno assunti 10 nuovi vigili. Un importante incarico in un momento indubbiamente delicato anche per la città di Arezzo. Come si stanno comportando gli aretini e come sta andando l'avvio di questa fase 2? Sì, è la prima volta nella storia che si verifica una crisi sanitaria con una crisi economica. Al momento gli aretini si stanno comportando bene, diciamo devono continuare ad usare le mascherine e a rimanere nella distanza sociale. Questo è un elemento essenziale affinché il contagio non entri nella nostra città e quindi si possa proseguire fino alla fase del rilascio totale della circolazione.